Abbiamo ribadito con chiarezza la nostra posizione anche di fronte a una Russia che dichiarava la propria disponibilità a convergere verso una soluzione di pace. Ne siamo ovviamente, ne saremmo molto contenti, ma se si volesse la pace la cosa più facile da fare per ottenerla immediatamente sarebbe ritirare le proprie truppe di invasione dal territorio ucraino e difendere così e ripristinare l'integrità territoriale dell'Ucraina. Anche questo è stato ribadito. C'è piena convergenza anche sulla crisi medio orientale. C'è stata dall'inizio con la Germania, con il cancelliere Scholzio, potrei tranquillamente sottoscrivere tutte le parole che lui ha detto in questo punto stampa. Sosteniamo Israele e il suo diritto a difendere la sua sicurezza, i suoi cittadini, i suoi confini dalla minaccia di Hamas. Come siamo concordi nel dire che è necessario rispettare il diritto internazionale, proteggere la vita dei civili, crediamo che Hamas si faccia scudo della causa palestinese, quando non dei civili palestinesi, e che il modo più efficace per svelare questo blef sia lavorare concretamente per una soluzione strutturale al problema palestinese, la soluzione dei due popoli e dei due stati. Salutiamo l'ipotesi che si stiano piano trovando, facendo dei passi in avanti per evitare una escalation, siamo stati entrambi impegnati anche nel dialogo con i paesi arabi, anche questo è molto importante. Ovviamente a Monte Italia e Germania condividono il fatto che sia fondamentale difendere il diritto internazionale. Quando l'Ucraina fu invasa qualcuno di noi disse che un mondo nel quale non esistevano più regole sarebbe stato un mondo nel quale avrebbero continuato a proliferare gli scenari di crisi. È esattamente quello che sta accadendo ed è la ragione per la quale noi dobbiamo continuare a difendere con forza il diritto internazionale. E chiaramente tutta questa vicinanza di vedute sarà al centro della nostra cooperazione a livello europeo, a livello di G20 e a livello di presidenza italiana del G7 il prossimo anno, sulla quale ci aspettiamo e siamo certi di avere un impegno di prima fila da parte della Germania. Abbiamo affrontato ovviamente la questione dei flussi migratori, condividiamo la necessità che vada implementato il lavoro relativo a un cambio di visione che c'è stato all'interno dell'Europa per cui l'unico modo per risolvere efficacemente la questione migratoria in Europa è lavorare sulla dimensione esterna e lavorare anche in modo diverso con i paesi africani. Un lavoro che noi abbiamo cominciato a fare in questi mesi e che bisogna continuare a portare avanti, anche perché nell'attuale scenario, nell'attuale contesto geopolitico il ruolo dell'Africa è un ruolo fondamentale, un ruolo nel quale noi dobbiamo ricostruire una cooperazione che non sia predatoria, dobbiamo ricostruire un approccio che non sia paternalistico, dobbiamo aiutare il continente e le nazioni del continente a vivere meglio delle grandi e numerose risorse che hanno, anche per poter meglio gestire la questione dei flussi migratori, che va gestita sulla base del rispetto delle regole. L'unico modo per favorire una seria migrazione legale è combattere l'immigrazione illegale e le mafie che fanno i soldi sull'immigrazione illegale. Chiaramente abbiamo parlato anche dei temi prossimi, delle grandi decisioni alle quali l'Unione Europea è chiamata, partendo dal tema del patto di stabilità e crescita. Penso che, anche essendo i nostri punti di partenza diversi, la nostra franchezza nell'affrontarli, la nostra chiarezza anche nel definire quali siano le necessità delle nazioni, che stia dando piano piano i suoi frutti e penso che entrambi siamo consapevoli del fatto che solamente da una soluzione trovata tra noi possa effettivamente arrivare una soluzione efficace per tutto il continente europeo. Buonasera al Presidente Meloni e al Cancellere Scholz. Volevo chiedere se il vertice di oggi è servito effettivamente ad avvicinare le posizioni di Italia e Germania sul patto di stabilità, anche sui criteri che potrebbero essere previsti dal patto. E poi volevo chiedervi quale secondo voi è il significato della partecipazione del Presidente russo Putin al G20, se potrà avere un effetto in qualche maniera sulle crisi internazionali a partire ovviamente da quella in Ucraina.